Oggi giochiamo a Dragamine. Dragamine è un gioco in cui lo scopo è superare un percorso ad ostacoli. Per questo gioco ci vogliono minimo 4 persone, 2 navi e 2 ammiragli. Lo scopo delle navi è superare il percorso ad ostacoli senza toccare le mine. Invece lo scopo degli ammiragli è aiutare le navi, che saranno appunto vendate, a superare questo percorso. Se una squadra tocca una mina è automaticamente eliminata. Il percorso è consigliato farlo in un luogo aperto, in modo da costruire un percorso molto divertente. E le mine saranno fatte con bicchieri di plastica. Adesso vi faremo vedere come si gioca. Io darò le indicazioni a lui che sarà la navi, mentre io sarò l'ammiraglio. E anche lui, Marco, darà le indicazioni a Romano. Gira a sinistra. Passa a sinistra. Vai un po' a destra. Ancora. Dritto. Vuota a sinistra. Avanti, avanti, avanti. Di poco. Ancora a sinistra. Avanti, vai avanti. Gira a sinistra. Gira a sinistra. No, non così dritto. Un po' a destra, vai. Dritto. Gira a sinistra. Vai avanti. Vai dritto. Avanti. A sinistra, a sinistra, a sinistra, a sinistra. Avanti. A sinistra. Ok, bene, stop. Fermo, fermo. Avanti. Vai dritto. Vuoi dimmi quando? Vai. Tommaso ha rotto il bicchiere, quindi ha preso la mina e quindi ha vinto Fede. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.